Ecco, partitella tra i ragazzini, questo è il gruppo dei Pulcini, c'è il mister Simone Giordano, qua c'è un altro gruppo di mister Giulio Massimini che ha realizzato un rettangolo di gioco, dove i ragazzi si cimentano. Dopo la sede non si rinforza, i portieri si apprestano a una corsetta con il loro preparatore, Caspari Aurelio, quest'anno c'ha una nutrita schiera di portieri, scatti e piccolo trotto, piovicica, la temperatura è un po' rigida, ma i ragazzi si divertono lo stesso. Là è la postazione per il rilascio dei documenti e delle iscrizioni, c'è Milli.